siamo giunti alla quinta una buona buona moneta per cavalli di due anni sul miglio pochi ma buoni the king griff tesoro tiziana tenebroso trottatrice terror e tu da solo per il momento tesoro degli dei e the king griff ma anche tenebroso questi sono i più gettonati ma essendo due anni l'incertezza e sempre dietro l'angolo il retrato tu da solo gli altri bene a rete buona l'allineamento e inizia a prendere velocità il mezzo meccanico tesoro degli dei e trottatrice alle prese tra i due tiziana va via tesoro riguadagna di dentro the king griff e relaga a largo trottatrice e il tesoro per il momento di nome di fatto e al comando tredici e tre redditizio il lancio per il figlio di Igor Font e l'Igor Font vargato dei completa la piegata e completa anche i quattrocento iniziali che se ne vanno nell'ordine del ventinove e mezzo e ora il caterpillar può amministrare il vantaggio grado in terza posizione la tiziana per linee esterne il cinque di trottatrice e il sei di terror caffa cavali al completamento dei seicento iniziali passati in quarantasei amministra decisamente il vantaggio il leader e cavali che affrontano la penultima curva non ci sono variazioni sostanziali grado a piacimento e a proprio comodo il buon Giorgio d'Alessandro segno con il targato dei uno e due il mezzo miglio quindici e otto di frazione puledri di fronte si elimina trottatrice e di fronte non ci sono variazioni sostanziali dietro il tesoro è sempre the king il chilometro in diciassette e mezzo cinquecento la meta si fa notare tenebroso con il pigna ma stana the king griff che va aggressivo sul tesoro degli dei e the king sta già passando a redini basse passa the king e lui per il momento di nome di fatto il king quindici uno trenta due sei tre quarti di miglio cerca di ricucire il gap il numero quattro di tenebroso ma scappa via il ragioniere vediamo se ha fatto bene i calcoli ora con questo targato griff tenebroso va a cazzo the king a largo viene via anche tiziana ci crede il pigna ci crede ci prova e ci prova alla grande il crigna apparegna the king lotta serrata i cavalli sono in zona traguardo e sul traguardo il pigna con tenebroso pizzica the king griff 2.5 sul mio cronometro ci ha creduto fino in fondo e ci ha creduto fino in fondo il pigna lotta serratissima tra i due io sedici e due addirittura la retta d'arrivo molto in apnea tra i due molto in apnea ma chi ha avuto il guizzo vincente soprattutto la guidata leggermente in più è stato il pigna con questo tenebroso e possiamo dirle ora il tenebroso è di nome e di fatto tenebroso fin e il mette il punto esclamativo il pigna linea alla regia